Bentornati su MyFootballGersy. Ho voluto riprendere questa maglia perché a mio avviso è stata una cosa bellissima fatta da Juventus, indossata peraltro solo una volta. Questa è la quarta maglia per la stagione 2019-2020, la maglia di Ronaldo. Grazie a tutti. Io ho un debole per questa maglia, a parte i colori che uno li può amare o meno, secondo me è stupenda. Una delle maglie della Juventus, se non la maglia della Juventus più bella degli ultimi 10-20 anni. Poi ditemi voi se siete d'accordo o meno. Qualità ottima? Qualità ottimi costi che vedete qui sopra. Un affare da non perdere. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché ci sono insieme a questa tante altre offerte che vi attendono. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, se volete vedere altre recensioni di maglie stupende come questa, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan!